Martedì 9 maggio ci troviamo a Venezia Maestre per un nuovo workshop ed infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Oltre 200 professionisti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo prestazioni energetiche, sistemi di certificazione normativa, tanti temi che abbiamo trattato con i professionisti presenti alla giornata, tante le aziende che hanno raccontato anche le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Noi ci presentiamo da questo punto di vista perché offriamo servizi a loro dedicati, quindi da un team di consulenti a dei portali online, a dei file BIM che possono trovare in rete fino ad eventi di formazione dedicata. E poi gli offriamo anche prodotti innovativi sia dal punto di vista tecnologico che dell'ecosostenibilità. Ecosostenibilità partendo dalla rubinetteria, quindi riduzione del consumo idrico ed energetico con ad esempio areatori, riduttore di portata e sistema Blue Start per l'apertura a freddo, per arrivare poi a quello che è il nostro plus estremo, Aqua Blade, dove abbiamo sì riduzione di consumo idrico ma poi tutta una serie di guadagni dal punto di vista igienico, estetico e soprattutto della funzionalità perché abbiamo tolto la brida e da una fessura facciamo uscire l'acqua da due canali completamente smaltati, quindi andiamo a prevenire l'accumulo del calcare che è fondamentale.